Scopri il piacere di cucinare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia con il nostro pacchetto delle lezioni live streaming Tutto cereali e pseudo cereali low carb Una serie completa di videoricette facili che ti insegnerà a preparare deliziosi piatti senza glutine senza latticini e a basso contenuto di carboidrati Con i nostri videocorsi imparerai a trattare cereali e pseudo cereali per eliminare antinutrienti e sapore erbaceo rendendoli più digeribili 32 videoricette di primi e secondi piatti divise in 8 live streaming a tema È adatto sia a principianti che cuochi esperti perché è illustrato nel dettaglio E allora? Clicca qui sotto e inizia a trasformare la tua cucina con il pacchetto delle live streaming Tutto cereali e pseudo cereali low carb Grazie a tutti!